Consigliere Mandracchia, lei nella confusione generale si è ritrovato, suo malgrado, a ricoprire il ruolo di Presidente facente funzione della Commissione Bilancio e Finanze. Partendo da questo, come commenta le ultime novità riguardanti la necessità che la Giunta riapprovasse il bilancio dopo averlo fatto qualche tempo fa? Il fatto che sia tornato indietro dimostra quanti e quali siano i punti neri di questo bilancio. Non c'è stato, non ci poteva essere l'ok da parte dei revisori, è tornato indietro, la Giunta lo ha riapprovato. Anche questo bilancio come i precedenti è approvato solo grazie alle entrate straordinarie, addirittura una di queste entrate straordinarie è derivata dalla ingiusta sanzione all'osforamento del patto di stabilità. Questo lo voglio precisare perché il bilancio del 2014, se non ricordo male, venne approvato solo perché ci furono restituite le 890 mila euro di sanzione. Quindi per quell'anno fu possibile chiudere il bilancio e quindi poi portarlo al vaglio del Consiglio Comunale. Naturalmente avranno rinviato il pagamento dei debiti fuori bilancio all'esercizio successivo, come tante altre cose verranno rinviate all'esercizio successivo. L'aumento, il 25-30% stimato dall'aumento del costo dei rifiuti sarà di competenza del prossimo bilancio, del bilancio 2017. Quello del 2016 di previsione verrà approvato forse entro gennaio del 2017, quindi una previsione che serve solo a garantire e a sostenere i costi e la volontà politica delle scelte che hanno fatto gli amministratori con a capo il Sindaco di Paola. Naturalmente loro avranno mille alibi per dire ci sono stati tagli, ci sono state difficoltà, però noi abbiamo potuto constatare in questi anni che i tagli sono stati ben compensati dall'aumento della pressione fiscale. Quando invece ci continuano a dire, perché sono almeno sei mesi che dicono noi non aumenteremo ulteriormente la pressione fiscale, bisogna ricordare alla città che c'è una legge dello Stato che impedisce ai comuni di aumentare ulteriormente la pressione dei tributi locali. Quindi la smettono di raccontare ancora una volta ai saccenzi che non l'hanno fatto perché si erano posti questo obiettivo. No, questo è stato uno dei provvedimenti del Governo nazionale che ha evitato che i comuni potessero ancora aumentare i tributi. E con aumentare i tributi, peraltro, sembra essere anche una ricetta che non funziona più di tanto. Se pensiamo che a Sciacca il 40% degli utenti non paga la tassa sui rifiuti, come considera questo fatto? Questo è un fatto gravissimo naturalmente, però l'IVA ha fatto un'analisi molto più ampia. Il Comune di Sciacca vanta 10 milioni di euro di crediti di tributi locali non pagati. Sul recupero dell'evasione fiscale non è stato fatto nulla. C'era stato promesso il potenziamento dell'ufficio tributi, c'era stato promesso che sarebbero state attivate delle tecnologie per dare la possibilità ai funzionari e ai dipendenti di potersi interfacciare con quelle che sono le nuove tecnologie per la ricerca degli evasori, ma di tutto questo non si è vista traccia. E allora è veramente semplicistico dire che il prossimo anno chi verrà, senza che qualcuno pensi che quando diciamo che il Comune è in una fase di prediscesso, questo serva come alibi per chi si vuole candidare a sindaco. Questa purtroppo è una mala verità. Loro lo hanno testimoniato con le difficoltà che ci sono state, ma alcune scelte politiche sono assolutamente da condannare. Una, l'ultima, in ordine cronologico, in questi giorni come augurio di fine anno è arrivato il 20% della tassa dei rifiuti da pagare. E allora lì si vede quanta sia grandissima la confusione amministrativa. Che senso ha avuto fare un nuovo invio per la Tari quando la scadenza è 21 dicembre? Quindi sono arrivate con la scadenza già passata e piuttosto che dire non aumenteremo la pressione fiscale, secondo me il primo punto da mettere proprio in agenda è quello di mettere mano seriamente a quelli che sono i cittadini furbetti, gli evasori che continuano a non pagare. Perché c'è una differenza tra chi non può pagare e tra chi invece ha escogitato un bel sistema, tanto il Comune non controlla.